Un giubileo dalla porta aperta però dove si vive, quindi non andremo via da Fano, da Fossombroni, da Cagli, da Pergola, ma staremo qui. Ed è per questo che il segno di apertura della Porta Santa lo faremo domenica prossima, 13 di dicembre. Alle tre e mezza si partirà da San Paterniano, un pellegrinaggio, arriveremo ad aprire la Porta Santa, la Porta della Misericordia e poi la celebrazione dell'Eucaristia in cattedrale. Saranno anche dei ragazzi, dei giovani che sono accolti qui nella nostra diocesi, perché profughi, perché di altre nazioni che con noi acclameranno al Vangelo. Sarà un sacerdote russo che acclamerà, che leggerà il Vangelo, perché vorremmo che questo anno sia veramente un anno in cui riallacciamo relazioni. Il Papa dice, non voglio una chiesa che costruisca muri o che faccia fortontiere, ma una chiesa in piazza, una chiesa ospedale da campo. Questo ci auguriamo e il Vescovo della nostra dioce, Monsignor Armando Tattasarti, ci ha anche proposto due segni giubilari, che saranno un po' il segno di una carità e di una misericordia molto concreta. Quello di aprire un centro di prima accoglienza per coloro che hanno bisogno del medico e non hanno i requisiti per recarsi nei nostri ospedali e quello di accogliere nelle famiglie i profughi che in questi giorni, che in questi mesi stanno venendo in Italia. Dico anche che una porta che apriremo, ma che sarà sempre aperta, sarà la porta delle carceri. Il Papa dice esplicitamente che la porta delle carceri sarà per ogni carcerato la porta santa se la attraverserà con la voglia di cambiare vita. Ecco, noi vorremmo arrivare là dove ci sono queste barriere per poter con la misericordia accogliere tutti perché tutti possano aprirsi alla misericordia di Dio.